ciao benvenuti qui su penelope e le sue carte oggi andiamo a vedere l'oroscopo del mese di aprile 2023 vedremo un po tutto il cielo del mese quindi tutti i movimenti planetari tutti i transiti ci sono stati ci sono in ballo tanti cambiamenti pianeti che cambiano segno insomma che incideranno in modo forte molto evidente adesso nel mese di aprile ma in special modo nei prossimi anni oserei dire decenni vedi plutone in acquario ma a parte quello dicevamo vedremo quindi un po tutto il cielo del mese poi andremo a vedere l'oroscopo segno per segno vedremo un po che cosa ci promettono le stelle fatto questo per ogni segno zodiacale andrò ad interrogare anche le mie carte anche i miei tarocchi per vedere qualche dettaglio qualche particolare in più le carte a volte vedono anche le minime le più piccole cose ma detto questo cosa promette questo cielo di aprile 2023 allora vediamo un po di darvi le date dunque sicuramente aprile apre quindi si apre proprio il mese con plutone in acquario quindi plutone è entrato ufficialmente nel segno zodiacale dell'acquario ed è a 0 gradi virgola 08 quindi è proprio lì sulla riga fra il capricorno e l'acquario ma ufficialmente quindi è passato nel segno rivoluzionario di urano a nettuno continua a camminare continua a sognare nel segno dei pesci urano continua a camminare nel segno del toro saturno è entrato lo scorso mese di marzo sta muovendo i suoi primi passi nel segno dei pesci si trova quindi nel mese di aprile si muoverà fra i due gradi e mezzo e i cinque gradi e mezzo dei pesci poi c'è giove in ariete che farà dal diciannovesimo al ventiseiesimo grado marte marte è entrato in cancro dopo sei mesi di gemelli quindi gemelli sagittario vergine i gemelli stessi non ne potevano più aprile cambierà completamente l'aria e lo vedremo lo vedremo presto quindi marte apre il mese di aprile dai 3 gradi del cancro fino ai 18 gradi venere altro cambiamento molto importante per il cielo di questo mese di aprile il pianeta dell'amore camminerà per circa la metà del mese primi 10 11 giorni ancora in toro ok quindi continuerà cammina nel toro ed entrerà poi si sposterà entrerà nel segno dei gemelli il 12 11 12 aprile quindi diciamo fa pasqua in toro e poi la salute entra nei gemelli ok mercurio dal segno dell'ariete apre il mese in ariete ma entrerà nel segno del toro il giorno 4 di aprile per poi diventare retrogrado iniziare il suo moto retrogrado e questo porterà insomma non pochi asini poi ne parleremo quindi mercurio tornerà indietro sempre in toro e ma inizierà il moto retrogrado il sole che dall'ariete passerà nel toro e la luna la luna che mi dice a che ve lo dia fa li gira tutti questi segni molto volubile quindi voi mi capite qui ci sono dei cambiamenti belli 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 importanti che vedremo nel dettaglio fra poco ecco il passaggio quindi il cambiamento grosso plutone e saturno ovviamente perché sono appena accaduti però sono accaduti in marzo il marte pure entra in cancro il cambiamento che vedremo proprio nel corso del mese di aprile vedremo venere che dal toro passerà ai gemelli quindi beati i segni i segni d'aria ma non solo i segni d'aria penso anche ai leoni alla bilancia al gemelli stesso all'acquario ma li vedremo li vedremo più avanti mercurio dicevamo che entra in toro quindi venere che entra in gemelli e mercurio entra in toro già lì c'è una botta e risposta fra mercurio e venere questo è importante cioè mercurio che entrerà nel territorio di venere cioè in toro il toro è governato da venere viceversa venere entrerà nel segno dei gemelli che è territorio che ha un segno governato da mercurio no come dire io vengo a casa tua tu vieni a casa mia questo ha un significato in astrologia e lo vedremo lo vedremo fra poco quindi io direi andiamo a vedere a questo punto per il cielo di ognuno di ognuno di noi cosa ci portano cosa ci portano queste stelle proprio nello specifico allora toro il tuo segno zodiacale è sicuramente beneficiato da tutti questi da tutti questi transiti abbiamo visto saturno dai pesci che ti fa uno splendido trigono al sole e adesso pure marte marte in cancro trigono a saturno entrambi i sestili al tuo sole questa è una cosa spettacolare bellissima qui c'è la conclusione magari di un affare nel vero senso della parola se si parla di business ma anche di altre altre tue cose personali private naturalmente bisognerebbe lì vedere il tuo tema natale proprio per capire però diciamo molto genericamente parlando qui c'è un qualcosa che si va concretizzando va bene che metterà le sue radici la sua stabilità per il tuo futuro ma è un qualcosa che tu devi aver già seminato in passato secondo me questa è una cosa che nasce già da un po di tempo fa qui c'è anche un qualcosa che richiama la comunità quindi io non so c'è un gruppo di persone quindi ho un'azienda in cui ci lavorano molte persone ok oppure un gruppo di un qualche tutto ciò che è comunità che è gruppo non so come meglio come meglio dire quindi ci sarà qualche toro a che ha a che fare che si sta muovendo che sta facendo con un gruppo di persone nel senso mi viene da pensare ad un'associazione che sia culturale che sia di aiuto per gli altri che sia che ne so io va bene di qualsiasi tipo essa sia comunque sia qui c'è un comunque sia qui c'è un qualcosa di passato di antico di vecchio che viene assolutamente preso in mano e come posso dire reso concreto reso reale so se mi sto se mi sto spiegando va bene toro poi cosa c'è di splendido questa venere congiunta urano in toro che ti sta portando tante soddisfazioni affettive lavorative personali ma anche mercurio che passerà abbiamo visto sul tuo segno nel tuo cielo no nel tuo segno zodiacale che porterà altrettanta fortuna qui ci sono dei denari movimento di soldi comunicazioni importanti per quanto riguarda il denaro i soldi transazioni finanziarie economiche ma ancora ci possono essere degli amici delle amicizie importanti effettivamente qui tutti potresti spostare tutti potresti reare da qualche parte con questi amici o per andare da da questi da questi amici ok amici che potrebbero essere anche figli nipoti cugini ok c'è proprio nel vero senso più ampio della della parola guarda io ti vedo andare anche in una località d'acqua io non so se il mare o un lago qui c'è l'acqua vicina quindi non vedo molto anche il lago e sinceramente fammi sapere se tu vai al lago comunque diciamo in una località in una località d'acqua magari perché tu devi fare un qualche cosa ok perché di voi tori perché di voi toro magari non deve fare una di queste cose che ho detto qui posso vedere semplicemente tu potresti fare un qualche cosa nella tua casa ok un abbellimento insomma un qualcosa nella sua casa o ancora qui ci può essere un qualche toro che potrebbe regalarsi non so la moto la macchina un cellulare nuovo capito un qualcosa di tecnologico o comunque un qualcosa un mezzo di trasporto ecco un qualcosa che richiami tutto questo ma cos'altro qui ci sarebbero tante cose da dire ora voglio chiedere anche i miei tarocchi tiro anche un paio di carte per vedere un po però un mese assolutamente positivo qui saturno e nettuno in in se stile sono veramente belli qui c'è proprio la il raziocinio la logica la forma cioè qui veramente sappiamo cosa facciamo potremmo fare come ti vedo molto creativo toro qui tu potresti realmente creare qualcosa fare un qualcosa anche per quanto concerne proprio il tuo a il tuo lavoro cos'altro ma guarda qui almeno nei primi del mese ma forse già a marzo qui tu potresti ricevere qualche telefonata anonima o qualcosa di strano tipo so ti sparisce la posta o i messaggi ti non tu sa più ti sono spariti insomma robe strane comunque va bene non è non è voglio dire vitale tiriamo un paio di carte perché qui vi ho talmente tante cose non sapete a che parte rifanno fammi vedere un paio di tarocchi allora per il segno del toro vediamo per il segno del toro messe di aprile 2023 toro aprile 2023 ok il cavaliere di bastoni vedi guarda il cavaliere di bastoni cos'altro per il toro un'altra carta mese di aprile 2023 per il toro messe di aprile 2023 per il segno del toro il 9 di spade e il taglio il carro capovolto allora qui c'è oltre a tutto quello che abbiamo visto c'è anche una qualche preoccupazione però un qualcosa che che ti angoscia e ti dà ansia magari un trasferimento un viaggio un cambiamento oppure potrebbe pure essere come ho detto o una preoccupazione circa uno spostamento che può essere un viaggio ma anche un trasloco un cambiamento di lavoro un cambiamento importante nella sua vita che può creare un pochino d'angoscia un po di ansia diciamo no sai come si dice no si sa quel che si lascia non si sa quel che si trova ma qui ci potrebbe pure essere la la chiusura di qualcosa c'è un qualcosa che viene chiuso che viene tagliato che viene finito fammi vedere voglio vedere una cosa è toro per il mese di aprile potresti chiudere un qualcosa per partire di nuovo con un'altra cosa vedi il fante di spade guarda qui non escludo anche tu venga a sapere un qualche cosa un qualche chiacchiericcio magari che qualcuno ti parla male dietro una qualche invidia qualche pettegolezzo che ti potrebbe un pochino ma insomma non te la prendere più di tanto toro qui i transiti sono assolutamente positivi assolutamente favorevoli al tuo segno zodiacale l'unica cosa che posso vedere un po è ma 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 nemmeno nel senso non stavo dicendo mercurio perché mercurio un toro insomma per un toro è abbastanza fascioccone abbastanza tranquillo quindi io fossi in te starei tranquillo quello che ti ripeto c'è c'è un qualcosa durante un viaggio o che riguarda un viaggio uno spostamento che si potrebbe tenere lasciare un pochino un pochino così tu me lo farai sapere nei commenti comunque un mese di aprile assolutamente positivo per te va bene solo fammelo sapere giù nei commenti è qui che cosa che cos'è che ti angoscia così tanto riguardo questo cambiamento va bene sono dimenticata di tirarti anche gli oracoli mai sia che faccio discriminazioni allora vediamo per il toro per il mese di aprile 2023 toro vediamo ok involvement with the law qui c'è qualcosa che riguarda la legge stai tranquillo perché è positiva va bene quindi qui c'è un qualcosa che riguarda la legge o comunque la legge intesa anche come come si posso dire burocrazia magari tu dovrà fare dei documenti non lo so io ok quindi tutto ciò che è la legge quindi tu c'è un qualcosa in ballo ma anche come stavo dicendo vedi esattamente qui devi ricercare delle informazioni di cui avrai bisogno quindi qui c'è un qualcosa che riguarda la legge quindi tribunali ma anche proprio legge nel senso di burocratico che tu dovrai risolvere quindi ci qui ci sono vedi cerca delle informazioni che potrebbero che potranno aiutarti poi tu mi farai sapere di che cosa si tratta stai tranquillo toro perché va bene bisogna vedere proprio il vostro tema natale di nascita per capire un po sta legge sta burocrazia andò la va però qui insomma tu hai dei transiti assolutamente favorevoli sotto questo punto di vista quindi qui a meno che ripeto non ci sia un tema natale disastrato qui la cosa potrebbe volgere a tuo favore va bene toro poi me lo farei sapere un buon aprile anche a te ciao Musica 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 Musica